Una tre giorni dedicata alla promozione della pratica dell'allattamento al seno. Questa è l'iniziativa organizzata dall'ASL presso l'ospedale di Battipaglia e rientrante nelle attività previste dal programma C, i primi mille giorni di vita del piano regionale della prevenzione. Un corso di formazione, giunto alla sua seconda edizione, che si pone l'obiettivo di promuovere la pratica dell'allattamento al seno attraverso l'implementazione dei dieci passi previsti dalle linee guida OMS Unicef. L'allattamento al seno è un problema di salute pubblica e promuovere e sostenere l'allattamento al seno è fondamentale ed è prioritario. Ecco perché la direzione strategica dell'ASL Salerno ha voluto fermamente questo corso di formazione secondo lo schema OMS Unicef, che è uno schema che prevede la parte teorica e la parte pratica, quindi incontro in reparto e incontro con le mamme. che stanno svolgendo il corso di accompagnamento alla nascita. Quindi gli operatori coinvolti sono quelli dei punti nascita e quelli dei consultori. Quindi è un corso multiprofessionale che si rivolge a pediatri, che si rivolge a ostetriche, a infermieri e a ginecologi e che vede il coinvolgimento nella nostra azienda dei pediatri di libera scelta e anche del collegio provinciale delle ostetriche. E quindi è un corso che tende a implementare in azienda questo schema di sostegno dell'allattamento al seno secondo l'OMS Unicef. È importante sia per il lattante e per il bambino perché dà dei benefici nutritivi ma dà anche dei benefici in termini di salute. Basta pensare che un bambino lattato esclusivamente per i primi sei mesi ha un rischio molto basso di obesità nel futuro. Ma è anche un vantaggio per la mamma. La mamma che allatta riduce i suoi rischi di malattie metaboliche addirittura si riduce anche il rischio del cancro al seno per dirne una. Quindi l'allattamento materno al seno è un vantaggio per la mamma e per il bambino. Che riscontro ha avuto qua a Battipaglia? A Battipaglia l'azienda sanitaria di Salerno sta incominciando a fare questi corsi pilota e so che la Regione Campana sta formando dei formatori quindi non sarà più bisogno che veniamo noi da Trieste o dall'Istituto per l'infanzia dei Trieste Irksburgo-Garofolo dove lavoro ma ci saranno dei formatori in loco che quindi a blocchi negli anni futuri formeranno gli operatori sanitari per modificare le pratiche ospedaliere e promuovere l'allattamento al seno. Grazie a tutti!